Enya e Milano, eterne rivali di stagione, si incontrano sul ghiaccio al Tatesino per la terza e decisiva sfida che mette in paglio la Coppa di Lega del primo posto per i restanti incontri di playoff. Tra i padroni di casa si rivede a difesa della gabbia Martin Rizzi, mentre manca ancora l'appello bomber Dominic Perna con Turo Virta regolarmente sul ghiaccio, come è accaduto anche venerdì in quel di Torino. I meneghini invece non contano defezioni nel loro roster con coach Massimo Darin, che recupera anche Alessandro Re e Mirko Migliavacca, entrambi assenti nell'ultima gara. La prima occasione non stenta a concretizzarsi la formazione della bassa tesina, si rende subito pericolosa con un'incursione centrale di Stricchiere, il quale sulla pressione di Re non riesce a battere Terrazzano. Poco dopo con Piccarainen in panca dei puniti, Legna è già in vantaggio. Fagioni da posizione defilata ci prova una prima volta senza successo, ma al secondo tentativo non perdona. Al 3.46 si registra così la prima marcatura della serata. Flavio Fagioni porta a condurre Legna. Il team della bassa tesina potrebbe rimpinguare il proprio vantaggio, potendo giostrare con due uomini di movimento in più. Ma questa volta Fagioni si scontra con i riflessi di Terrazzano. Poco dopo mischia Furibonda davanti alla gabbia del Milano con i tentativi di Virta, Ciresa ed infine di Donati, sventati con più di un affanno dalla retroguardia Meneghina. Poi ancora Egna, sempre con un uomo in più sul ghiaccio. Pellettier spara dalla distanza, il disco esce dallo specchio dopo una serie di tocchi che favoriscono però Striccher, il quale non riesce a passare sul primo palo. I padroni di casa insistono e un errore di Lutz porta al tiro anche Zampaldi. Terrazzano riesce a bloccare con un po' di fortuna. Scampati i numerosi pericoli, si vede anche il Milano in avanti con un'azione corale di pregevole fattura. Discesa sulla sinistra di Caletti al centro per Migliore che successivamente allarga per Peruzza, il quale però arriva con un attimo di ritardo all'appuntamento con il disco. In finale di tempo i rosso-blu riescono anche a pareggiare i conti. Manuel Lopresti controlla nel terzo offensivo resistendo alla pressione di Pellettier e girandosi improvvisamente mette alle spalle di Rizzi con una conclusione precisa ed improvvisa. Il lampo di Manuel Lopresti ristabilisce l'equilibrio sul ghiaccio della Wirt Arena al 19 e 21. Non è comunque finita qui per quanto concerne la prima frazione perché proprio sulla sirena Fagioni taglia per Bertignol che manca il sigillo del nuovo vantaggio. In avvio di secondo tempo Meneghini più intraprendenti con Marcello Borghi che caparivamente recupera un disco in avanti portandosi poi in posizione per battere la rete. Conclusione centrale che non fa male. Ancora Milano protagonista sottoporta nella prima metà del periodo nella circostanza con Andreas Lutz che fa tutto da solo ma sul più bello si vede chiusa la strada da Martin Rizzi. Al 29 e 17 con l'uomo di movimento in più i Lombardi si portano per la prima volta in vantaggio. Conclusione da fuori di Piccarainen e tocco vincente di Tommaso migliore. L'attaccante classe 88 porta così il Milano a condurre con il suo ventitresimo centro nel corso di questa stagione sportiva. La nuova situazione di punteggio dura circa sei minuti visto che al 35.03 Legna pareggia i conti. Simone Donati ci prova da fuori, il disco rimane lì e Patrick Zambaldi va a beffare Terrazzano. Settimo gol in stagione per Patrick Zambaldi che vale il 2 a 2 nella sfida per la Coppa di Lega. Passano altri 35 secondi e la compagina tua tesina si porta addirittura in vantaggio. Ciresa controlla, entra nel terzo avversario e carica il tiro che vale il 3 a 2. La conclusione dell'attaccante ex Pontebba viene deviata da un avversario che gli si parla davanti e mette così fuori causa l'estremo difensore del Milano. Successivamente Simonazzi potrebbe addirittura allungare per i suoi ma nell'uno contro uno viene ipnotizzato da Terrazzano. La risposta degli ospiti arriva in power play. Constant riceve sulla blu e va a concludere centrando il palo alla destra di Rizzi. Nel terzo tempo i meneghini tentano subito di rientrare. Azione personale di Caletti il quale scappa via Bertignol e però si scontra con Rizzi che gli sbarra la strada. Parte allora il contropiede dei padroni di casa con Peiti che tocca per Sulman il quale allarga su Fagioni Murato dal gambale di Terrazzano. Ancora Egna prima della metà del tempo della Dio gioca su Striccher. Poi il tocco per il tentativo di Fagioni respinto e successivamente ancora Striccher a provarci ma il disco non ne vuole sapere di entrare. Sull'altro fronte si prova a sfondare sull'asse Ansoldi migliore. Rizzi va a sventare la minaccia. Poco dopo ancora migliore protagonista in zona offensiva il numero 91 riceve nella circostanza da Caletti ma il suo tiro non eccessivamente angolato. Non fa male. Poi ancora Clauda a suggerire per Manuel Lopresti il quale va vicinissimo alla doppietta personale. I tentativi proseguono sino alla fine ma il Milano non riesce più a rientrare. E' legna allora ad aggiudicarsi la contesa e a festeggiare così la conquista della Coppa di Lega nonché del primo posto in vista dei playoff.